C'è sera Pescara, lunedì ore 21, per i Biancazzurri il primo vero snodo della stagione. Quarto posto, meno 8 dalla vetta, un match che dirà tanto sulle prospettive del Delfino. A prescindere da qualche criticità strutturale, a gennaio serviranno due centrocampisti, un difensore centrale e un attaccante, sacrificandone un paio in un reparto già super affollato. Mancano idee e soluzioni offensive. La pessima prova di Coppa col Teramo non è stata affatto digerita. Il prezioso successo sull'Olbia non deve illudere. La verifica lunedì a Cesena. Il tecnico Biancazzurri confermerà il 4-3-3, Sorrentino tre pali. Veroli prenota una maglia da titolare, potrebbe essere lui e non in grosso il partner di Mirko Drudi. L'ex Zappella o Cancellotti è in zitta sulle fasce. Panchina per Ianes e Frascatore, disattento in occasione del gol. Partita, firmato da Viero, mercoledì in Coppa contro il Teramo. A metà campo Rizzo, Pompetti e Memuscei. Davanti Galano, Ferrari e De Marchi. Inizialmente ai margini Dursi, Clemenza e Marilungo, altro ex. Sulle ali dell'entusiasmo la vice capolista Cesena. Rullo, compressore in trasferta, 5 vittorie e un pareggio. Molto meno al Manuzzi. Due successi, tre pareggi, l'ultimo dei quali contro la Pistoiese e un K.O. col Modena. La squadra di Viali gioca sostanzialmente di rimessa. Team solido, quadrato, appena 5 gol subiti. Difesa meno perforata del girone. In gruppo Zecca, ex Teramo, Adamoli e Candela. In dubbio Brambilla. Il Pescara non vince Cesena da quasi 30 anni. 9 febbraio 1992, Serie B. Nelle immagini, match winner Rocco Pagano, che aveva già deciso la sfida. Quattro anni prima, 14 febbraio 1988, in Serie A. Andando più a ritroso, 14 ottobre 1984, Serie B 1-1. Il pescarese Augusto Gabriele sblocca il punteggio. Pari di Giorgio Rosselli, un autentico capolavoro, su cross di Gigi Marchionne. Era il delfino del compianto Enrico Catuzzi.